Buongiorno a tutti e benvenuti a questo primo webinar organizzato dalla Camera di Commercio Italiano in Romania relativo al progetto Stay Export del Fondo Interamerale. Questo webinar di oggi è organizzato grazie anche al supporto di Union Camere e di Asso Camere estero. Oggi con noi ci sarà Bernardino Carbone di Sapore e Tradizioni con un'esperienza ventennale in Romania nel settore agroalimentare. Bernardino oggi ci parlerà di quelle che sono gli ultimi trend del settore a partire dall'oreca e a finire anche a quello che è la grande distribuzione e di come stanno cambiando i trend e da come è cambiata l'approccio al mercato da parte degli operatori rumeni a seguito della pandemia determinata da Covid-19. Io non vorrei rubarvi ulteriore tempo, vorrei soltanto lasciare la parola al nostro presidente Roberto Musneci per un breve saluto, poi possiamo iniziare con il webinar. Grazie. Presidente, a te la parola. Non ti sentiamo, Roberto, sei in minuto. Ecco, mi sentite? Mi sentite ora? Sì. Perfetto, mi vedete decentemente perché io dal telefonino non riesco bene a capire. Ecco, intanto grazie Giovanni, benvenuto a te, benvenuto a Bernardino Carbone e a tutti i partecipanti a questo webinar organizzato con il supporto del Union Camere. È un tema molto molto importante, in effetti ieri sera abbiamo avuto una riunione di tutti i presidenti delle Camere italiane dell'area Europa e il tema True Italian Food è un tema particolare che è stato trattato perché non soltanto in Romania ma anche in tutto il resto d'Europa il consumatore si va sofisticando sempre di più e quindi c'è per noi una opportunità non soltanto per fare eh come dire business ma anche per fare cultura per fare cultura gastronomica. Ora questo è un momento molto particolare il fatto che siamo qui parlando attraverso un webinar anziché incontrarci eh fisicamente eh purtroppo ci dà il il sentore del periodo che stiamo vivendo. Il settore Oreca ha avuto chiaramente un impatto negativo potentissimo in questo in questo momento vi dico cose che sapete che sapete meglio di me altri settori dell'agroalimentare invece ne hanno risentito molto meno c'è la grande distribuzione parlando con i direttori generali dei più grandi distributori nel paese invece stanno avendo un anno un anno particolarmente particolarmente buono proprio per il fatto che invece l'Oreca e quindi la gente semplicemente non esce non può uscire. Allora è un un anno complesso è un anno con qualche luce ma sicuramente è un anno complesso però è anche un anno dove stiamo come camera di commercio stiamo reagendo con forza eh ci confrontavamo ieri sera con le altre camere e devo dire che noi qui in Romania siamo riusciti a virtualizzare tutto ciò che potevamo eh virtualizzare e quindi siamo stiamo riuscendo a eh mantenerci vicini ai nostri associati eh che cosa sarà eh cosa succederà nel prossimo futuro troppo nel prossimo il futuro immediato nelle prossime settimane è prevedibile una serie di ulteriori restrizioni non soltanto in Romania magari dopo le elezioni ma anche in altri paesi europei questa è stata un'opinione condivisa da tutti da tutti coloro che hanno eh partecipato e però c'è un ottimismo anche nel medio termine e per medio termine intendo di qui a qualche mese eh perché l'economia avrà certamente un un rimbalzo e quindi eh si conta che anche nel settore eh agri dell'agri food questo 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 rimbalzo verrà verrà sentito ora io non mi vorrei dilungare oltre eh questo è il secondo credo Giovanni correggimi se sbaglio il primo il primo ecco sì facciamo talmente tante cose che uno si dimentica il primo dei primi webinar eh dei primi webinar eh fatti in collaborazione con con l'Union Camere ce ne saranno altri sulla sanità sul sistema bancario eh e su altre e su altre tematiche ed uno dei modi in cui speriamo di rimanere sempre eh vicini ai nostri associati io mi devo da ultimo scusare ho un incontro piuttosto importante tra alcuni minuti e vi dovrò lasciare però eh siccome questo webinar è registrato farò in modo di eh vedere ciò che è stato discusso ringrazio ancora i i gli speaker i partecipanti e ancora una volta grazie e congratulazioni a te Giovanni perfetto grazie Roberto grazie per il tuo intervento e buon lavoro buona giornata so che hai un impegno abbastanza importante oggi eh niente ehm mi scrivono in chat alcuni partecipanti che ci sono problemi con l'audio credo sia non sia dovuto alla nostra piattaforma o comunque ehm non non so come come aiutarvi magari provate a uscire a riconnettervi potrebbe essere una buona una buona soluzione ehm perché mi scrivono altri che eh riescono a sentire perfettamente detto ciò ehm dopo dopo aver partecipato a questo webinar come sapete già probabilmente avete partecipato già ad altri webinar organizzati da altre camere di commercio riceverete un questionario che vi invito vivamente a compilare il prima possibile al fine poi di poter eh partecipare all'attività di mentoring ehm io credo che possiamo iniziare eh con la presentazione e pertanto lascerei la parola a Bernardino Cardone grazie grazie Giovanni buongiorno a tutti come vi ha anticipato oggi parleremo del settore agroalimentare in Romania nel periodo post pandemia eh principalmente io ho voluto focalizzare l'intervento che farò eh nelle nelle prospettive del settore agroalimentare riferendolo però alla nostra realtà e quindi alla realtà italiana eh possiamo tranquillamente cominciare la 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 nostra conferenza ho cercato di dare in primo luogo una breve eh di fare un breve riassunto su quella che è la situazione paese eh non so quanti conoscano la la Romania sapete benissimo la la sua collocazione geografica fino al 1989 la Romania è stata un paese del blocco sovietico quindi dall'89 in poi ne è uscita ma diciamo che dai primi anni duemila cioè da dal duemila in poi quando hanno avuto il coraggio e la forza di indirizzare il paese verso le istituzioni occidentali e quindi di eh prima di tutto entrare nella Nato e poi di iniziare il eh le le trattative per poter entrare nella comunità europea questo ha dato un grandissimo impulso alla eh alla all'economia rumena e alla crescita e allo sviluppo del paese nel nel duemilasette il primo gennaio duemilasette la Romania entra in Europa eh sin da quell'anno ha una crescita economica di più che comunque supera sempre il quattro per cento eh ma la cosa più importante secondo me è il cambio di ehm abitudini di la crescita sociale nel senso che eh dal duemilaquattro per esempio i rumeni possono realmente viaggiare cioè vengono eliminati gli obblighi di visti soprattutto nei paesi eh dell'area Schengen questo naturalmente permette anche se era già iniziata sin dopo la rivoluzione ma era molto più difficile poter eh entrare in Europa prima del duemilaquattro eh una diaspora come viene definita qui e cioè la possibilità di eh tantissimi cittadini e cittadine perché poi il ruolo delle donne eh è stato molto importante eh di emigrare dal paese e di stabilirsi nei paesi europei eh pensate che eh più di quattro milioni di persone negli anni sono partite dalla Romania e si sono poi stabilite principalmente nelle aree eh dell'Europa occidentale quindi Italia, Germania, Francia e Spagna ma che come come potete vedere la diaspora che è la quinta al mondo come eh emigrazione la diaspora in Italia ehm diciamo così eh comprende più del eh più di un milione duecentomila persone il trenta per cento del totale che si sono stabilite in Italia e che è diventato il paese con il maggior numero di residenti in Europa occidentale. Al contempo e questo è un dato che è iniziato eh sempre dopo l'ottantanove eh in in Romania cominciano a insediarsi le prime i primi imprenditori eh imprenditori italiani che decidono di da un lato del delocalizzare e dall'altro di investire nel paese portando eh la loro esperienza imprenditoriale qui. Probabilmente all'inizio questo è anche dovuto al fatto che la mano d'opera aveva un costo molto molto basso soprattutto dopo la rivoluzione del del millenovecentottantanove ma questo negli anni è riuscito a a portare a un eh numero di aziende presenti nel territorio rumeno molto molto alto. Eh oggi le aziende attive quindi eh eh diciamo così depurandole da quelle che possiamo considerare dormienti. Coloro che depositano ogni anno un bilancio sono più di venticinquemila. Come numero di eh presenze non come volume eh assoluto di capitale siamo il il probabilmente il primo paese europeo. Eh poi ci sono investimenti enormi fatti da alcuni colossi tipo l'OMV che è la l'azienda petrolifera austriaca ha acquistato la Petrom e quindi in termini assoluti ha creato un volume di eh diciamo così di fatturato di presenza come capitale enorme. Però sono pochissimi gli austriaci che hanno aziende qui rispetto alla percentuale italiana. Eh ecco torniamo invece alla alla parte più eh diciamo così eh sociale del del fenomeno che si è creato in dal primo gennaio duemilasette la Romania entra in comunità europea comincia ad avere eh le le la la normativa e la legislazione della comunità europea in termini di scambi eh di capitali di persone di merci di servizi e quindi continua a crescere anzi si si diventa quasi esponenziale questa questa diaspora. La crisi del duemilaotto naturalmente eh è stata una una parte importante di di questo fenomeno e e questo che cosa ha creato principalmente? Ogni cittadino rumeno ha un parente, un conoscente, un amico, un cugino che eh vive in Italia, che si nutre della nostra cultura, del nostro agroalimentare, della della nostra enogastronomia e che eh naturalmente lo fa cioè gli permette di trasmetterlo. Pensate che i rumeni residenti in Italia la stragrande maggioranza almeno tre volte l'anno tornano nel loro paese di origine sicuramente a Natale, a Pasqua e a Ferragosto portando con sé, questa è una tradizione, io sono eh venuto in Romania nel la prima volta nel eh settembre del millenovecentonovantacinque. Poi eh ho cominciato a frequentarla sempre più e adesso ormai sono residente qui da quindici anni praticamente e eh così come loro eh diciamo così portano le nostre tradizioni in Romania anch'io ho fatto il viceversa cioè il il ehm la 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 contaminazione culturale è cresciuta in questi ultimi vent'anni in maniera molto molto importante. Si è creato quindi un terreno fertile in questo paese eh la nostra agro eh c'è la nostra eh i nostri prodotti agroalimentari sono sicuramente dei prodotti che eh hanno anche gioco facile la la dieta mediterranea la la capacità di poter eh diciamo così far conoscere eccellenze che nel nostro paese si trovano veramente in ogni piccolo paese eh di e in ogni regione in ogni provincia ha permesso una eh contaminazione culturale come dicevo prima molto importante eh naturalmente questo come dicevo ha creato in questo paese un dato importante quindi il il nostro potenziale di sviluppo di ehm prodotti agroalimentari ed enogastronomici in Romania. Nel 2017 questo è il dato più recente che abbiamo eh la Romania l'Italia esportava verso la Romania circa 500 milioni di euro di prodotti agricoli e alimentari. Ogni anno questo numero è cresciuto tra un 10 e un 12 per cento a seconda degli anni. Quindi nel 2019 siamo arrivati a quasi 600 milioni di euro ed è in crescita continua anche in quest'anno che pur un anno difficile che pure un anno con dei sacrifici importanti ma l'agroalimentare altri prodotti hanno sofferto tantissimo da un punto di vista eh di export ma l'agroalimentare verso questi paesi di sicuro certo non ha avuto gli stessi numeri del 2019 che è stato l'anno record però comunque ha tenuto bene. Questo per dire che cosa? Che ehm oggi come oggi questo paese ancora non esprime una saturazione del mercato nel settore agroalimentare. Eh un dato molto importante la Romania ha una ehm una crescita importantissima nelle nuove generazioni di ehm nuove figure. Per esempio crea ogni anno ehm migliaia di programmatori IT. Cioè il settore IT sin dai primi anni duemila è stato molto favorito da un punto di vista fiscale. C'è una tassazione praticamente pari a zero. le università rumene hanno investito moltissimo su questo settore e questo che cosa ha creato? Ha creato la possibilità ogni anno di avere nuove figure molto qualificate. Pensate che la stessa ambasciata americana fa da head hunter o comunque le strutture dell'ambasciata americana fanno da head hunter nelle università e i migliori programmatori IT vengono eh presi e portati in Silicon Valley o comunque presso le grandi eh compagnie IT americane e gli altri quelli che magari non hanno una una grandissima qualificazione ma che comunque sono molto preparati eh trovano facilmente l'occupazione in Romania a stipendi e a gratificazioni molto importanti. Qui pensate tra Bucarest, Brasov, Cluj, Timisoara esistono eh cioè c'è la presenza di tutte le più grandi compagnie IT del mondo da Facebook, Google, Oracle, eh Cisco, IBM, Intel, cioè tutte queste compagnie sono presenti qui e hanno una struttura molto molto importante. Questo per dire che cosa? Che le nuove generazioni naturalmente cambiano anche la loro le loro abitudini alimentari hanno bisogno di eh crescere eh cioè di 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 come si dice di di portare una alimentazione healthy una alimentazione sana hanno accesso alla informazioni da questo punto di vista cosa che i loro genitori non avevano anzi al contrario pensate che queste generazioni di transito uscite dal periodo comunista eh naturalmente non hanno mai avuto la possibilità di eh di cambiare le abitudini così come queste generazioni di oggi eh ma che purtroppo per alcune difficoltà per mancanza di eh diciamo così di iniziativa di intenzionalità del del fanno fatica a trovare prodotti eh di questo tipo prodotti che il nostro paese può offrire oggi come oggi eh come potete vedere eh le grandi città Bucarest, Cluj, Brasov eh hanno i eh esiste la grande distribuzione esiste in maniera importante anzi molto più visto che qui c'era una grossa difficoltà di avere il eh negozio di quartiere, il negozio di prossimità dal due dagli inizi degli anni duemila si sono sviluppati i grandi centri commerciali. Bucarest ne ha più di ventidue centri commerciali. Le altre realtà come Cluj, Sibiu almeno tre quattro ma tra le altre cose parliamo di centri commerciali di una di dimensioni che in Italia esistono probabilmente solo a Roma come Roma Est e a Milano ad Arese il grande centro che c'è ad Arese. Per il resto eh sono strutture eh cioè in Italia non esiste proprio perché l'Italia comunque ha sempre avuto una rete capillare di eh negozi di alimentari, gastronomie, forni che comunque vendevano prodotti alimentari di una certa qualità e che quindi eh non non hanno permesso di sviluppare i grossi centri commerciali o comunque le normative italiane non hanno permesso di sviluppare i grandi centri commerciali come si è fatto qui. Questo ha creato comunque un vuoto perché perché i centri commerciali in Romania soprattutto la grande distribuzione alimentare in Romania è gestita da qua al novantacinque per cento da eh tedeschi con la metro e il Selgros quindi con i cash and carry eh francesi c'è la presenza massiccia sia di Carrefour che di Ocean e dal gruppo belga dell'Aize che è un soprattutto a Bucarest ma un po' in tutta la Romania ha una presenza molto molto capillare di eh negozi come con la sotto la la catena di Mega Image eh ecco Mega Image ha fatto una politica molto particolare ha creato un concetto che si chiama Shop and Go in cui eh ha fatto proprio i negozi di prossimità i negozi di quartiere quindi piccoli ehm negozi alimentari dove trovi tutto quello che è legato alla all'agroalimentare ma non solo ma che in realtà però rimangono abbastanza eh vuoti da un punto di vista di eh qualità dei prodotti cioè la 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 qualità è una qualità abbastanza ordinaria convenzionale nessun gruppo italiano è mai eh è mai venuto in Romania e non ha investito un euro purtroppo fino ad oggi sì sì dagli anni primi anni novanta io pensate nel millenovecentonovantacinque quando avevo bisogno di mangiare una pasta asciutta si andava sull'unico ristorante che c'era che era proprio nel centro di Bucarest oppure esisteva un solo supermercato un negozio ad alimentari che era proprio nel centro dove trovavi eh gli spaghetti barilla e le penne cioè due due formati di pasta magari qualche conserva della cirio e quindi avevi la possibilità di farti una pasta a casa per il resto era quasi impossibile poter trovare prodotti italiani non parliamo di grana padano parmigiano olio d'oliva o e nemmeno della loro qualità perché chiaramente questo era già solo il fatto di poterle trovare ci permetteva di comunque rendere la giornata felice eh ecco i prodotti italiani vengono importati da piccoli imprenditori italiani o da player rumeni che naturalmente hanno eh capito l'importanza dell'italian sound hanno hanno capito l'importanza del made in italy poi anche qui purtroppo eh l'aspetto del della la parte economica no la parte legata al allo sviluppo economico ha anche eh calmierato da un certo punto di vista la eh l'importazione di di prodotti di qualità naturalmente l'aspetto sempre di più sta crescendo una consapevolezza sulla qualità dei prodotti che il nostro paese offre ma purtroppo l'aspetto economico ne ha eh calmierato la diffusione proprio perché la difficoltà eh di 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 poter acquistare prodotti a di una certa qualità si scontrava con il con il portafoglio insomma eh ecco la la cosa importante poi è anche questa eh i rumeni che importano non hanno la sensibilità necessaria di cogliere il valore delle eccellenze e delle tradizioni che noi possiamo offrire eh ne parleremo dopo ma eh ci si oggi come eh l'italian sound qui in Romania eh è molto forte tra la popolazione ancora c'è da coprire un gap molto ma molto importante per soddisfare l'esigenza che si è creata è vero che il cliente eh c'è che il terreno è fertile è vero che oggi il potenziale ceto medio ha le caratteristiche necessarie per coprire eh cioè per per poter ehm far crescere esponenzialmente il la diffusione dei prodotti dell'agroalimentare cioè esiste un ceto medio che ha una capacità di spendere di acquisire soprattutto nelle grandi città naturalmente eh molto importante esiste una conoscenza della nostra cultura enogastronomica sempre più diffusa l'altro giorno in un negozio eh una signora si rumena si è avvicinata a una vetrina dove c'ha dove c'erano dei prosciutti crudi e la domanda che ha fatto alla eh commessa è stata mi scusi ma questo è un Parma o un San Daniele? Se fosse stato quindici vent'anni fa avrebbe chiesto che tipo di sciunca come si dice in romano in rumeno il prosciutto è questa? Che cos'è questa? Quindi la 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 cultura sicuramente è si è a modificata si è modificata la 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 le conoscenze che hanno oggi i potenziali clienti rumeni sono ampliamente maggiori rispetto a quelle che potevamo trovare vent'anni fa altra cosa importante la logistica che si sta integrando sempre di più esistono delle infrastrutture locali che permettono di avere degli dei mezzi di trasporto importanti e soprattutto dei mezzi cioè dei dei depositi di eh conservazione non solo la Romania tenete presente che è un il secondo paese europeo come eh velocità mh per quanto riguarda la rete dopo l'Estonia in termini assoluti quindi questa cosa molto molto importante perché eh permette rispetto al nostro paese che chiaramente ha una capillarità è industrialmente cioè da un punto di vista industriale ha eh una capillarità importantissima qui oggi per esempio se se vogliamo riferirci all'e-commerce qui oggi l'e-commerce ha un eh già una fetta di mercato che il nostro paese se la sogna qui esiste un player importantissimo che si chiama Emag è un gruppo sudafricano che in un certo senso è un surrogato di Amazon cioè fa lo stesso lavoro che Amazon fa in Europa in Italia in Germania in altri paesi dove è presente e eh vende vende cioè ha una una crescita di anno in anno e quest'anno è tra i gruppi che è cresciuto di più nel paese e vende cioè con con quote di mercato molto molto importanti qui ad esempio Carrefour Ocean eh Kaufland che è un gruppo austriaco fanno c'è ti permettono di fare la spesa online quindi tu non ti devi spostare al supermercato tu fai l'ordine hai una una scelta di prodotti molto molto importante metti sul carrello e dopo un'ora un'ora e mezza ti arriva la busta a casa hai già pagato qui per esempio le eh il delivery no per quanto riguarda l'oreca eh sta tenendo in piedi magari certamente con tutte le difficoltà che ricordava prima Giovanni ma sta tenendo in piedi il settore dell'oreca nel senso che qui ci sono meno lacci e lacciuoli rispetto al nostro paese per quanto riguarda i famosi rider però Glovo, Foodpanda, Uber Eats per esempio sono eh strutture che garantiscono eh una almeno di di tener botta a questi grossi eh a a al settore orecca che naturalmente soffre del in questo momento per esempio Ucares ma gran parte delle grandi città tutte le strutture orecca sono chiuse all'interno sono aperte le terrazze ma capite bene che l'undici di novembre andare a cenare fuori se non hai un minimo di struttura che risca calda è logico che in un paese come la Romania che oggi per esempio fuori ci sono sei sette gradi è difficile poter pensare di tenere in piedi il settore con le terrazze aperte eh ecco andiamo a analizzare un po' eh le criticità invece che troviamo io eh da sempre conosco queste eh questa realtà in Romania eh mi occupo di questo settore ormai da più di vent'anni e nel settore agroalimentare mi sono reso conto che uno delle principali criticità è questo spiccato provincialismo l'ho definito che cosa vuol dire vuol dire che ancora oggi le imprese non riescono a far sistema a far a creare quelle condizioni per cui eh tutti pensano al proprio orticello e alle ristrette eh ai ai desideri ristrette delle piccole comunità senza intraprendere quelle azioni che necessitano per poter rendere un il futuro migliore o per poter creare un potenziale di crescita di risultati e di crescita economica e sociale del sistema paese Italia. Quando noi visitiamo e quando si potevano fare ancora le fiere di settore ho partecipato negli ultimi anni a tutti i cibus, ai tutto food, sono stato a Colonia, diciamo quasi tutte le le più grandi eh fiere ed esposizioni eh sull'agroalimentare europee le abbiamo visitate ma c'è sempre questa sensazione che eh la stragrande maggioranza o moltissime aziende italiane dell'agroalimentare a differenza di altri settori perché poi farò un esempio in questo senso eh diciamo che vedano la possibilità di internazionalizzare eh solo come una azioni spot senza verificarne dei percorsi senza una visione strategica dell'impresa che dovrebbero fare manca sempre l'intenzionalità eh mi piacerebbe ma eh si rimane sai tanto il made in Italy si vende come tale eh si pensa sempre che queste parole garantiscano il successo ma eh non è così nel senso che i nostri cugini eh francesi i tedeschi altre realtà europee hanno la capacità di sintesi di 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 creare appunto questo eh il fare sistema il sistema paese che permette di spostarsi con eh imprenditori con istituzioni finanziarie con lobby politiche che noi non abbiamo e che noi non facciamo ancora in maniera eh diciamo così efficace io penso eh il mercato come abbiamo detto eh ha una eh un potenziale enorme di sia di crescita ma anche di penetrazione proprio dei nostri prodotti perché la crescita è costante e lo sarà sempre le nuove generazioni chiedono eh nuovi prodotti nuovi servizi nuove abitudini parlavo proprio con un imprenditore di Clujnapoca una delle città più importanti da un punto di vista universitario per la crescita del dei programmatori IT e mi diceva lui è un un italiano che che fa lo sviluppatore immobiliare e mi raccontava che eh oggi come oggi i programmatori IT che comprano gli appartamenti da lui li fa condomini fa eh non come i vecchi blocchi del sistema comunista ma ma dei crea delle delle strutture immobiliari nuove molto molto carine la cosa che mi diceva è pensa che oggi quando ci chiedono di comprare un appartamento ci dicono che non lo vogliono con la cucina loro metteranno un frigorifero per conservare eh conservare alimenti un microonde e un lavandino non vogliono forno non vogliono c'è il il fornelli o la piastra induzione nulla di tutto questo non sono interessati a questo perché perché appunto con le abitudini che si stanno creando e si stanno modificando si crea questo tipo di eh ricerca eh la una una alimentazione healthy sana eh la dieta mediterranea quindi la la capacità la possibilità di acquistare prodotti di qualità spendendo pure senza bisogno di non c'è la corsa al al ribasso dei prezzi dei prezzi ma eh devono naturalmente trovare offerte che garantiscono loro la possibilità di modificare la loro alimentazione rispetto alla cucina rumena dovete pensare che è una cucina ehm c'è un'espressione qui eh è una cucina preparata quindi da lunghe le cotture che permette di avere grandi eh diciamo così le le famose ciorbe che sono le nostre zuppe i sarmale che sono degli involtini diversa ma che necessitano di cotture molto lunghe di di preparazioni in cui le massaie si svegliano alle cinque le sei della mattina e che per ore producono cioè preparano questi piatti oggi come oggi la ricerca è eh e lo vediamo nei negozi che che stiamo gestendo è quella di avere eh prodotti a portata di mano espressi quindi si entra in un negozio e si compra la burrata piuttosto che il formaggio piuttosto che gli insaccati di diverso tipo una pasta e e e il sugo di pomodoro e si fa la pasta al pomodoro quindi questa questo cambio di 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 divisione se vogliamo è una crea cioè avrà una crescita continua proprio con il ricambio generazionale le nuove generazioni questo stanno cercando e questo eh dovrà essere il nostro eh obiettivo per poter garantire loro di trovare il eh il quello che stanno cercando appunto vi parlo di una cosa di una di una di un esempio ecco di 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 una realtà che ehm c'è qui eh e che è appunto una una realtà una storia di successo eh cinque imprenditori italiani intuendo la la potenzialità di conquistare questa fetta di mercato nel food in in uno dei paesi più importanti pensate che la Romania è il secondo paese dell'est Europa dopo come grandezza e numero di abitanti dopo la Polonia eh e che con l'Italia come abbiamo sempre detto ha delle eh liaison ha delle delle eh dei fattori comuni molto molto importanti sapori e tradizioni è una di questa io sono il responsabile commerciale della di questa azienda eh che cosa fa eh cerca i brand italiani non per forza brand riconosciuti naturalmente ma che garantiscano non solo l'Italian sound ma soprattutto il made in Italy e l'eccellenza del made in Italy quindi gestisce attraverso un ufficio acquisti molto preparato la selezione dei prodotti che poi immettiamo nel mercato ricerchiamo potenziali clienti nell'oreca facciamo loro formazione tenete presente che il mercato dell'oreca italiano qui a eh in Romania a Bucarest ma non solo è enorme è probabilmente sovradimensionato nel senso che cosa voglio dire con questo eh eh è talmente forte per i rumeni l'Italian sound della cucina italiana che un cameriere che è stato magari un paio d'anni in Italia torna qui e apre un ristorante dicendo lui fa cucina italiana ecco è molto importante che che questo poi venga seguito venga comunque eh gli venga data una formazione necessaria per poter non dico renderlo eh diciamo così italiano al cento per cento perché questo poi diventa difficile e diciamo così è un'ambizione un po' particolare da poter raggiungere ma che abbia un minimo di eh di fattori comuni di denominatori comuni delle materie prime di un certo livello eh qui qui pensate un un esempio che voglio fare nel novanta negli anni novanta ma tutti gli anni duemila eh la carbonara in Romania era una carbonara fatta con il bacon e la panna quel fenomeno di cui abbiamo parlato all'inizio e cioè la diaspora rumena la possibilità di potersi spostare e quindi di conoscere dei prodotti originali nel nostro paese oggi cominciano a dare i loro frutti e cominciano a eh far sì che il rumeno autoctono quello che vive qui oggi non accetta più o una gran parte di questi non accetta più la carbonara con la panna con l'aglio con il bacon ma ti chiede di eh poter eh avere la l'originale eh tanti ormai andare a Roma con un Wizz Air un Ryanair un Blue Air che sono le tre compagnie che operano sull'Italia eh da Bucharest o da tutte le città più importanti Cluj, Timisoara, Sibiu eh Craiova costa cinquanta euro un fine settimana un city break eh e il costo del nella strana maggioranza dei casi tanta gente va a trovare amici come vi dicevo ogni rumeno ha una eh radice nel nostro paese ha un punto di riferimento nel nostro paese che li può ospitare che può comunque organizzare logisticamente la visita creare trovare la 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 sistemazione di alloggio e via discorrendo e questo logico che ha eh nel momento in cui queste persone cominciano a conoscere e ad avere la 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 conferma che quello che hanno mangiato fino adesso non era l'originale quando tornano pretendono di avere un uno uno scalino in più pretendono di avere prodotti di qualità originali e manipolati correttamente noi sappiamo benissimo che la cucina italiana per l'ottanta novanta per cento mettiamo l'ottanta per cento è fatta da materie prime buone come diceva Gualtiero Marchesi eh il più bravo cuoco è colui che eh riesce a togliere il meno possibile da un'ottima materia prima e io penso che veramente la cucina italiana questo abbia questa questa nuova questa storia di successo di cui vi sto parlando che cosa ha fatto poi ha creato una struttura che permetta di dare una ehm conseguenza alla logica di sapori e tradizioni che è appunto quella di acquistare dall'Italia prodotti agroalimentari di qualità selezionandoli formando i potenziali clienti garantendo la logistica su Bucarest nel 2017 si è aperto il primo ristorante eh pizzeria e negozio cioè un concept particolare nel quale che si chiama Sara nel quale il eh diciamo così il cliente finale quindi eh il rumeno può entrare in una in una struttura come questa può mangiare una pizza italiana eh può eh garantire una carbonara originale adesso faccio qualche esempio così di piatti particolari ma tutta la ma soprattutto può acquistare prodotti italiani di brand conosciuti e non ma di sicura provenienza italiana originali genuini trasparenti che garantiscono comunque a prezzi altra cosa molto importante perché vedete un'altra un'altra cosa importante è questa noi riusciamo quasi a tenere i prezzi minori della grande distribuzione perché perché la grande distribuzione considerando i nostri prodotti di nicchia eh naturalmente vende il il prodotto stesso a un prezzo molto molto alto rispetto a quello che potrebbe riuscire a fare eh come spiegavo ecco eh noi io come cliente ho anche mega image al quale do delle burrate eh do la porchetta di ariccia e do il san daniele ehm in eh vaschette da ottanta grammi ma è chiaro che i prezzi a cui vengono venduti in questi negozi di grande distribuzione eh sono altissimi rispetto a quello che potrebbero avere insomma c'è c'è una marginalità proprio perché vengono considerati prodotti di nicchia oggi sono presenti tre punti vendita ma il piano di sviluppo come vi dicevo è molto importante perché si vuole uscire il prossimo sarà Brashov e quindi fra qualche mese avremo un altro punto vendita che stiamo già eh allestendo a Brashov abbiamo su Cluj, Timisoara insomma le bandierine diciamo che il il covid ha in un questa pandemia insomma ha un po' rallentato lo sviluppo ma di certo non non eh l'intenzione di farlo insomma appena si potrà ricominciare varrà la pena ricostruire il eh la la struttura che che ci siamo immaginati. Io ho finito la presentazione a me sarebbe cioè piace più poi l'interazione quindi la possibilità di eh poter interagire con chi magari ha delle richieste particolari cerchiamo di conoscere un po' gli interlocutori che si sono iscritti a questo webinar in maniera tale di capire il potenziale che potrebbero offrire per la crescita delle della dell'agroalimentare in italiano in Romania Giovanni. Grazie Dino. Mi sentite? Sì sì. Grazie. Grazie per la presentazione e eh vorrei chiedere ai partecipanti se ci sono eh delle delle domande prima poi magari di andare ai closing remarks. Chiedono il bio come va? Una domanda in chat da Andrea Bacchett. Ecco eh su questo naturalmente è sempre torniamo a quell'elti di cui parlavamo prima no? Le nuove generazioni sono molto attente a questo tipo di tenete presente che il fatto di 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 queste nuove generazioni hanno accesso all'information technology sia grazie al fatto che hanno una rete digitale sviluppatissima. Io qui eh tranquillamente ho una una diciamo così una velocità che da tre anni dal nel 2017 sfiora un giga un gigabit al secondo quindi voi e non ho un abbonamento eh professionale cioè l'abbonamento di di casa qui è a un gigabit al secondo insomma adesso mi hanno messo la fibra ottica e ancora di più quindi questo permette l'accesso alle informazioni in maniera molto molto veloce e la da un punto di vista di infrastruttura da un punto di vista diciamo così di conoscenza è logico che queste persone ma non solo cioè la 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 le nuove generazioni sono molto molto attente a questo tipo di eh settore eh settore cioè il bio è in crescita esponenziale tant'è che per esempio tornando al discorso sapori e tradizioni ha anche una enoteca molto fornita il il circa centoventi etichette diciamo fornita per il un'enoteca italiana fornita per la Romania su centoventi etichette un'ottantina sono etichette bio quindi il settantacinque per cento sono etichette bio sul vino e tantissimi prodotti che acquistiamo sono prodotti bio bene poi chiedono i prodotti dolciari da porno tipici regionali come vengono visti sul mercato rumeno allora eh che tipo di prodotti per esempio vi faccio un un esempio classico io pur tradendo questo accento veneto eh sono di origine messinese perché carbone non può essere un cognome veneto quindi eh qui in Romania eh per esempio una delle cose che sta andando nella maniera una maniera impressionante è proprio il cannolo siciliano cannolo siciliano qui si vende non dico come i carnetti ma eh noi abbiamo abbiamo importiamo le bucce dalla Sicilia importiamo la ricotta zuccherata quindi un prodotto lo diamo originale importiamo il pistacchio i canditi e poi facciamo qui eh cioè ogni cliente si fa l'assemblamento cioè l'assemblaggio del 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 cannolo ma è tale da poterlo dare sempre con ehm con ehm con fragranza cioè con un prodotto fresco e con eh le caratteristiche di qualità che merita insomma ha una crescita esponenziale cioè negli ultimi anni eh o due tre anni sempre più eh pasticcerie caffetterie eh non esiste il bar come lo conosciamo noi non esiste il bar dove la mattina la gente scende prende cappuccino e brioche ce n'era uno solo a Bucarest ma era il bar degli italiani il famoso caffè Milano la gente andava lì e eh faceva colazione all'italiana con il croissant con il dolce e il cappuccino questo non esiste esistono invece le caffetterie esistono invece altri tipi di strutture e in queste strutture i dolci vanno vi ho fatto l'esempio del cannolo siciliano ma noi per esempio importiamo da eh altri marchi prodotti dolciari che logico non hanno lo stessa vento cioè lo stesso eh la stessa diffusione della pasta piuttosto che dell'olio d'oliva o di altri prodotti basilari però hanno un mercato bene eh Dino ti chiederei la gentilezza magari se puoi puoi inserire i tuoi dati la tua mail perché certo esatto ci ci siamo dimenticati all'inizio lo facciamo ora alla fine perché mi chiedono di 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 diverse persone diversi partecipanti di di voler prendere contatti con te vado alla prossima eh domanda quindi quelli che vogliono prendere c'è un produttore di olio d'oliva piuttosto che di certo certo molto volentieri possono contattarti direttamente quindi se lo puoi scrivere in chat gentilmente sì andiamo alla prossima domanda il mercato del vino di alto livello come va allora mercato del vino di alto livello ecco questo è un tenete presente una cosa la Romania è un produttore di vino sin dai tempi dei romani c'è sempre noi gli abbiamo portati i vini le vigne quantomeno quindi la la Dacia la Dacia era stata una provincia romana dal 106 dopo Cristo dopo la guerra le guerre di Traiano eh e i romani hanno portato qui i vittini e oggi come oggi c'è un'ottima tenete presente che per la conformazione geografica e morfologica del paese no i carpazzi formano una sorta di mezzaluna quindi permettono di avere nelle eh zone eh cisalpine cioè ciscarpatiche eh un'esposizione al sole spettacolare quindi da est fino a ovest hanno una esposizione al sole eh spettacolare e quindi si sono create delle aree di produzione molto importante che però purtroppo durante il periodo comunista in un certo senso si erano non perse ma quantomeno si era omologata la la produzione no non c'erano le specificità le eccellenze quindi per questo per dire che cosa che il rumeno comunque essendo un produttore è anche un consumatore di vini eh ha da sempre no subito dopo il novanta chiaramente aumentando la capacità eh di acquisto la il potere di acquisto ha anche aumentato la la capacità di poter importare vini di alta qualità eh naturalmente eh fino a qualche anno fa questo era appannaggio di pochissimi e questi pochissimi volevano solo i migliori i migliori i migliori i migliori vini qui alcuni vini sono naturalmente vini più che altro di etichetta no di moda se vogliamo no l'amarone il brunello di montalcino il qualche barbaresco barolo delle langhe non parliamo dei vari sassiccai che comunque certo si vendono ma si vendono più che altro come come eh diciamo così mh possibilità di di apparire più che mentre e questo ve lo dico per esperienza personale si sta creando una eh mercato un ceto medio che acquista vini importanti con etichette interessanti di livello non quindi il vino da tavola il vino cominciano ad avere ecco come vi dicevo prima sul biologico c'è una crescita importantissima e eh c'è la possibilità appunto di anche lì eh in un certo senso l'ho scritto sulla relazione che poi possiamo andare a rivedere no e vale a maggior ragione per certi prodotti il vino è sicuramente uno di questi c'è bisogno di formazione c'è bisogno di informazione c'è bisogno se un'azienda decide di investire sulla Romania e di aprire questo mercato anche del vino qui in Romania c'è bisogno che lo faccia iniziando dagli strumenti di formazione e di informazione sui prodotti che possono proporre però il mercato è molto molto interessante anche sul vino proprio per un discorso storico i rumeni da duemila anni producono vino e quindi ne sono abituati cioè sarebbe più difficile vendere vino in Islanda che in Romania bene grazie anche per per aver risposto a questa domanda vado alla prossima quant'è l'impatto e-commerce su marketplace rispetto all'e-commerce diretto su marketplace significa su sulle strutture sulle piattaforme dice no allora questo è un dato che non è purtroppo tanto aggiornato e soprattutto l'unica cosa che io posso dire su questa cosa qua è che sicuramente sul rispetto all'e-commerce diretto il marketplace la fa da padrone cioè comunque molto molto più sviluppato se tu hai una piattaforma su emag che appunto questa struttura di cui stiamo parlando che in un certo senso che in un certo senso è un surrogato di Amazon hai una visibilità che altri tipi di di cioè la piattaforma diretta il tuo sito noi abbiamo un sapori però diciamo che oggi come oggi ancora non è stato sviluppato proprio da un otto nove mesi a sta parte ma come conseguenza della pandemia per poter correre ai ripari ma non è stato ancora sviluppato veramente come dovrebbe essere io credo che il marketplace da appunto da piattaforma oggi come oggi la fa da padrone ed è sbilanciato per un 70 30 non voglio sbilanciarmi su numeri potrò essere più preciso perché farò una verifica su questa cosa qua ma vi garantisco che insomma avere una visibilità attraverso piattaforma di un certo tipo dà dei risultati molto molto interessanti bene ci chiedono qual è il costo della cise rumene rispetto a quali prodotti e non lo non è specificato ma credo faccia riferimento a prodotti alcolici credo vino sì beh la Romania è un paese a tutti gli effetti un paese europeo quindi paga le accise solo sulle bollicine sul vino in bollicina e basta per il resto c'è bisogno della come si dice dell'ufficio doganale cioè la vendita del vino è regolata come in qualsiasi altro paese europeo e paga delle accise non tantissime non ho il dato preciso ma non è quello vi garantisco noi importiamo tutti i vini a bollicine dal prosecco ma non solo alla Franciacorta alcuni vini laziali il lambrusco per esempio qui ha un vino che le signore rumene bevono in quantità industriale ma non sposta assolutamente non sbilancia il costo del prodotto bene poi chiedono mi dicono che in Romania sono poco attente al salato ma molto ai dolci beh sicuramente il paese ha sempre per motivi storici io penso quello che cerchi sempre quello che magari soprattutto in gioventù ti è mancato di più perché chiaramente in certi periodi sicuramente questo me lo raccontava mia suocera cioè certi prodotti non si potevano trovare cioè si trovavano a Natale qualche volta negli ultimi periodi del di Ceausescu nemmeno in quel periodo lì ma parliamo di arance banane piuttosto che cioccolata non ne parliamo insomma la loro loro dolci oggi come c'è tant'è che esistono tantissime coffeterie le chiamano che sono le nostre pasticcerie ma anche nei centri commerciali per esempio si sono sviluppate tantissimi corner o isole all'interno del centro commerciale che vendono solo dolci uno delle c'è i negozi o per esempio da noi si vendono tantissimi dolci sia il cannolo il babà si vendono il tiramisù non vi dico quanti tiramisù fanno le ragazze tutti i giorni perché le monoporzioni da asporto proprio perché noi dobbiamo offrire un servizio da asporto quindi li mettiamo in piccoli bicchieri di plastica e il tiramisù è uno dei dolci sicuramente più venduti comunque sì probabilmente è più sbilanciato verso il dolce poi chiedono questo un po' si entra un po' nel dettaglio delle normative legate all'etichettatura esportazione importazione ci vuoi dire magari qualcosa in generale allora allora sì è comunque un valore aggiunto avere la possibilità di far partire dal da remoto cioè quindi dalla sede principale una etichettatura in lingua rumena perché comunque è obbligatorio altrimenti viene fatta qui ma è obbligatorio vi faccio un esempio noi importiamo 4-500 kg di prodotti di latticini mettiamola così dalla Puglia le burrate le mozzarelle alcuni altri prodotti del genere il fornitore ci garantisce sono tutte confezioni in sottovuoto quindi in packaging come si dice in packaging chiuso e il produttore ci garantisce l'etichettatura in ribbon sulla confezione stessa avere l'etichettatura in partenza è molto molto importante naturalmente questo ecco noi facciamo anche questa parte diciamo così di trade union no? quindi tra il cliente finale e l'azienda fornitrice quindi abbiamo la struttura per poterlo gestire poi è logico che su certi prodotti non ne vale la pena abbiamo dei piccoli fornitori che magari non hanno la struttura per poterselo permettere e questo poi lo facciamo qui quindi surroghiamo noi la cosa però avere l'etichettatura è fondamentale e la normativa rumena prevede l'obbligatorietà di mettere in vendita i prodotti con luogo di origine a me shelf life logico e provenienza ingredienti tutto quello che prevede la normativa europea bene poi chiedono se c'è richiesta di pasta secca artigianale di qualità sì questo è un sì netto nel senso che c'è aumentando il mercato c'è richiesta di tanta pasta perché chiaramente non possiamo negarcelo la cucina italiana fa della pasta uno dei must uno dei valori aggiunti più importanti insomma sia naturalmente esistono dei player logico se vogliamo definirlo il player più conosciuto in Italia il brand più conosciuto di pasta in Italia è la barilla e la barilla come vi dicevo prima nel 1995 era l'unico prodotto che io trovavo gli spaghetti e le penne barilla nell'unico supermercato che vendeva questi prodotti logico che nelle interazioni che si sono fatte in questi vent'anni i rumeni hanno cominciato a mangiare la pasta come la mangiamo noi e quindi ad avere una diciamo così richiesta di qualità del prodotto che permetta loro di garantire un risultato finale che magari alcuni prodotti non danno è logico che se tu metti una pasta come diceva Zalone a freddo nell'acqua col sugo 40-50 minuti è una cosa se invece fai una pasta in cui devi garantire la cottura tenerla al dente l'assorbimento dei sughi la ruvidità questo tra le altre cose è un qualcosa che nasce anche dalla diffusione di come vale per noi in Italia vale anche qui esiste MasterChef Health Kitchen esistono dei programmi monotematici cioè dei canali televisivi monotematici che fanno 24 ore su 24 programmi di cucina e che quindi cominciano a dare delle informazioni specifiche anche qui si sono create gli star chef e quindi dei cuochi che sono diventati delle star dalla canavacciolo alla craco anche italiani un paio dove uno di questi è Antonio Passarelli ma ce ne sono insomma cuochi italiani che naturalmente sia attraverso questi canali televisivi ma anche come vi ho detto attraverso i canali digitali perché è logico che essendoci una infrastruttura digitale molto importante hanno permesso e hanno creato questa formazione che obbliga l'utente finale ad avere una materia prima di qualità quindi tornando al discorso la risposta è sì ci chiede pasta di qualità secca fresca che permetta appunto di garantire il risultato finale di un certo livello perché cominciano ad avere comunque a mangiare la pasta come la mangiamo noi quindi al dente non sono più disposto ma ve lo dico anche come esperienza personale cioè quando ho fatto assaggiare a mia moglie mia suocera mio cognato la pasta mi guardavano come per dire ma scusa perché non l'hai lasciata quei dieci minuti in più cioè adesso se tu gliela fai stracotta e c'è non è proprio non è troppo cotta sta pasta capite quindi sì c'è la necessità di avere il prodotto di qualità la pasta cioè non solo c'è anche cioè si è coperto quel gap di perché un pacco di barilla un pacco di garofalo un pacco di rummo di vogiello di dececco che si trovano oramai di vella adesso per non dimenticare magari ne sto dimenticando qualcuno però queste sono le paste industriali quindi sappiamo benissimo la differenza che si trovano e costano bene o male un euro un euro e venti un euro e cinquanta da un euro un euro e cinquanta queste paste nella GDO e si trovano appunto tra Metro Selgros Carrefour e Auchan si trovano queste tipologie di paste però oggi come oggi ci sono delle richieste particolari proprio di paste di un certo livello che costano tre euro e mezzo quattro cinque euro al al chilo bene c'è un'altra domanda panificio Frascati se l'etichetta deve essere rumeno la risposta è sì ovviamente sì 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 quella sì questo è valido su tutti i prodotti su tutti i prodotti Dino ti chiedo la gentilezza di inserire i tuoi dati perché poi magari la gente va via la tua mail nella chat per poter essere contattato sì in seguito a questo a questo webinar vedo che non ci sono non ci sono altre altre domande spero non me ne siano sfuggite perché è qua nella chat niente io a questo punto dove la trovo la chat Giovanni scusami giù nel pannello giù dovresti avere chat ma nei partecipanti chat ok ok scusa scusa vediamo se ce ne sono delle altre se no possiamo passare puoi inserire sì ecco l'hai trovata no sui partecipanti hai detto sì vai su chat no devi stare devi andare dove scrive chat sotto chat l'ho trovata l'ho trovata nel frattempo è arrivata un'altra domanda che pure interessante pagano bene i prodotti italiani oppure una guerra al ribasso no no ecco bravo questa è una importante li pagano cioè se sono prodotti italiani di qualità originali li pagano senza problemi non c'è la guerra al ribasso da questo punto di vista diciamo che ancora il mercato non è formato al 100% naturalmente non è l'Italia quindi dove c'è anche una concorrenza di offerta così importante ma se tu offri purtroppo fino adesso sono stati abituati a pagare tanto anche i prodotti di scarsa o di bassa qualità e soprattutto tante volte non originali tanti purtroppo questo è l'esempio che faccio sempre nella pizza usano la mozzarella tedesca la mozzarella diciamo così magari Polonia Polonia cecoslovacchia esatto la sovacchia la ceca oppure anche prodotti autoctoni che in realtà poi non sono fatti con il caglio non sono fatti con interamente il latte ma in parte con grasso vegetale quindi grassi idrogenati o grassi margarina tipo e che naturalmente poi nella pizza non hanno una resa come dovrebbe avere la mozzarella noi siamo molto forti da questo punto di vista però questa è una cosa che fino ad oggi ci ha impermesso cioè non ci ha permesso di sfondare sul mercato insomma su certe cose perché però già cambia no vai finisci scusami no però appunto la da questo punto di vista la risposta alla domanda specifica è non cioè si paga il giusto si paga bene il prodotto troppe volte sono stati diciamo così presi in giro su certe cose oggi come oggi se tu dai un prodotto di qualità riesci a venderlo al giusto prezzo bene a proposito di quello che dicevi tu Dino c'è proprio uno studio fatto sull'Italian Sounding della Camera di Commercio di qualche anno fa e i paesi che imitano di più l'Italia sono proprio Germania e Polonia e spesso si finisce per andare a comprare la mozzarella che non è fatta con il taglio cioè ora senza nominare il brand perché non è non è corretto però proprio perché l'immagine dell'Italia il made in Italy è forte poi si va a scontrare con l'Italian Sounding quindi mozzarella mozzarì che magari non ha nulla a che vedere con le nostre finiscono per essere acquistate più dei nostri prodotti purtroppo e quindi questo questo uccide diciamo una grossa fetta dei nostri produttori medi piccoli grandi questo riguarda un po' un po' tutti vedo che hai inserito i tuoi dati mi fa mi fa dire Dino io ti ringrazio ecco c'è un'altra cosa ho visto adesso anche l'olio per esempio ho visto la domanda di Marcello Falvo l'olio per esempio è uno dei prodotti vai vai si vai vai no è uno dei prodotti che appunto possiamo definirlo uno dei prodotti fino adesso hanno pagato oli non dico di scarsa qualità però oli di oliva provenienti da olive della comunità europea mettiamola così a prezzi che in Italia paghiamo l'olio extravergine di oliva 100% italiano magari di zone particolari della Puglia dell'Abruzzo della Toscana insomma cioè un litro d'olio qui non voglio far nomi perché non ha senso ma ripeto ottenuto attraverso processi meccanici proveniente da olive della comunità europea a 10 11 12 euro a scaffale nello scaffale quindi sicuramente l'olio Evo Bio ha una noi noi lo vendiamo vendiamo l'olio di un produttore del di Frosinone ma è un prodotto di grandissima qualità vedevo adesso appunto la specifica di Marcello e si vende e ripeto le ragazze quando che hanno una formazione anche di vendita un'altra cosa che noi curiamo tantissimo ma nel senso positivo del termine cioè facciamo loro corsi continui di formazione sia sui prodotti sia sul come presentare i prodotti le eccellenze vanno motivate e se tu motivi l'eccellenza se tu motivi che tipo di prodotto offri poi chi viene a comprare in questo tipo di imprese compra anche a prezzi importanti perché ha il potere d'acquisto per poterlo fare e vuole garantirsi la qualità del prodotto necessario bene vediamo se ci sono altre domande altrimenti vengono preferite confezioni grande medie o piccole in che senso rispetto a che cosa cioè logico che a seconda del dov'è questa domanda la vedi dopo l'ultima dopo quella dell'olio allora il packaging è sicuramente uno degli aspetti più importanti perché perché dipende come è logico che sia dalla destinazione del prodotto logico che se è un prodotto da GDO deve avere un packaging se è un prodotto da diciamo così piccola distribuzione quindi i negozi che cominciano a svilupparsi sempre di più stanno aprendo anche qualche non esiste solo l'iniziativa di Sara probabilmente Sara ma ce ne sono altre e lì naturalmente il packaging ha una sua valenza e poi c'è l'oreca che invece ha bisogno di packaging particolari proprio per garantire una facilità di utilizzo insomma da questo punto di vista lì è specifica la cosa in base al segmento si 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 è legata specifica se se capiamo che tipi di prodotto fornisce questo e quindi ci rendiamo conto di quello che che potrebbe essere insomma bene stanno ecco ho visto che c'era per esempio ci sono tanti come possiamo dire una delle cose importanti è che c'è una sorta di richiesta di prodotti italiani a 360 gradi 15 anni fa nessuno sapeva ho visto che c'era una ragazza che di per tartufi no 15 anni fa in Romania non si sapeva che cos'era i tartufi oggi lo mettono anche sul sul caffè latte la mattina il tartufo un'altra cosa la rucola 20 anni fa la rucola non si trova mai pensate che ho un amico qui che la produceva ha cominciato a produrla nel 2004 2003 2004 e la vendeva a 15 euro al chilo 15 euro al chilo voi pensate che qua le patate si vendono a 20 centesimi 15 centesimi al chilo ci sono zone dove hanno produzione di patate soprattutto nella Transilvania quindi le zone tedesche se vogliamo ungheresi tedesche dell'ex impero austro-ungarico producono patate a prezzi la rucola si vendeva 15 euro al chilo ma questo nel 2006 2007 hanno cominciato a richiedere perché poi tra le altre cose si sono aperti la Romania è un ponte anche con l'est più con il Medio Oriente con l'est estremo pensate che comunque hanno avuto invasioni turche per secoli quindi la cultura turca ottomana la cucina medio orientale è comunque presente i famosi sarmali di cui parlavamo prima che sono sti involtini di verza riempiti con carne e riso sono turchi sono ottomani sono medio orientali magari in quei paesi non li si fanno con la verza li si fa con le foglie di vite ma il principio è lo stesso e appunto questi tipi la rucola il prezzemolo la menta il basilico il coriandolo sono tutti i prodotti che queste culture usano in maniera molto molto importante adesso nel 2020 se tu frequenti appunto la grande distribuzione ci sono le bustine a 100 grammi di rucola e costa quello che costa in Italia perché tanto importano i tir costa 1 euro 1 euro e 20 ogni 200 grammi quindi 5 6 7 euro al chilo insomma a seconda qui anche questo è molto importante ecco da tenere presente la crescita della conoscenza produce una crescita del consumo della domanda e quindi naturalmente con un'offerta adeguata hai la possibilità di avere dei prezzi che tengono conto anche delle economie di scala che si creano bene vediamo se ci sono altre domande non credo allora non so passerei ai ringraziamenti cioè vorrei Dino vorrei ringraziare te veramente io ringrazio te bella presentazione di oggi hai fatto una disamina da un lato sociologica e poi macroeconomica che fondamentalmente sono le informazioni più importanti del settore agroalimentare che le aziende vogliono sapere fondamentalmente sono quelle informazioni di base ma poi oggi si è andato anche in profondità di cui ogni azienda ha bisogno per capire il potenziale che ognuno di loro ha in relazione al mercato della della Romania hai fatto un escurso storico veramente veramente interessante fino ad arrivare ai giorni nostri e a far capire come sta cambiando gli ultimi trend e come sta cambiando il consumatore rumeno ci ho detto sicuramente il made in Italy noi che Dino ci viviamo in Romania lo sappiamo ma lo ripetiamo magari per i partecipanti di oggi il made in Italy nell'agroalimentare ma non solo molto presente in Italia ma in Romania scusami ma purtroppo poi si scontra con tutte una serie di problemate che oggi in parte sei riuscito tu ad analizzare e niente da parte mia è tutto e se non ci sono ulteriori domande possiamo possiamo concludere il webinar di oggi ricordando alle aziende che hanno partecipato che nei prossimi giorni riceveranno il formulario a cui pregherei poi di a ognuno di loro di compilarlo al fine poi di poter partecipare all'attività di mentoring che faremo tra il mese di dicembre e gennaio dell'anno prossimo grazie a tutti voi sicuramente è stato molto interessante grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti